Forzano la serranda di un garage condominiale di via Umbria al quartiere con Menda di Brindisi e forano una delle pareti per accedere al magazzino del negozio Acqua e Sapore di Via Laldomoro la cui parete confina con la rampa del garage e riescono ad entrare dai nocari dell'esercizio commerciale e fanno razzia di detersivi, profumi, creme e altri prodotti conservati nel retropottega del punto vendita Nella concitazione del furto i ladri hanno sparso fusti di detersivo lungo tutta la via di fuga e sulla rampa del garage la parete forzata è infatti quella della rampa attraverso la quale le auto dei condomini del palazzo di appartenenza salgono e scendono dall'autorimessa i ladri a conclusione del furto si sono dati alla fuga ad accorgersi di quanto accaduto solo questa mattina il personale dipendente all'apertura del negozio è infatti ancora in via di quantificazione l'ammontare del furto sul posto avvisati appunto dei responsabili di Acqua e Sapone, carabinieri e la polizia che hanno eseguito il sopraluogo per individuare elementi utili alle indagini le forze dell'ordine hanno anche acquisito le immagini delle telecamere installate della zona che potrebbero aver ripreso i ladri in fuga sentiti anche i condomini del palazzo cui appartiene il garage che però hanno dichiarato di non aver udito nessun rumore tanto meno quello di attrezzi da scasso durante la notte non è la prima volta che i ladri tentano di entrare con il buco all'interno del negozio Acqua e Sapone circa un anno fa, quanto hanno raccontato appunto i condomini ai carabinieri alcuni malviventi avevano provato a penetrare l'interno del bagno del negozio che è confinante proprio con il portone del palazzo in questione ma in quella occasione non riuscirono perché alcuni condomini avvertirono i rumori mettendo i ladri in fuga